Sfida di vertice per il giro NB di promozione al campo San Martino di Cogorno in cui si affrontano il Real Fieschi di Mr. Paglia e l'Atletic di Mr. Mariani. Solo due lunghezze separano le due squadre con gli Albarini, vincenti per 3-1 contro il Borzoli, in testa alla classifica. Badrone di casa, riduci invece dalla sconfitta contro il Cadimare. Il primo squilla è di marca genovese con questa conclusione di Gaspari al nono, che però è troppo centrale e non impensierisce Capitan Pozzo. Dall'illusione del gol invece la botta di fasciolo dal lato sinistro del campo, con il pallone che termina di un niente alla destra del portiere. È lì che esce dal guscio il Real, prima il colpo di testa di Ruffino su calcio d'angolo con Bartoletti che fa buona guardia e respinge. Poi al diciannovesimo questo flipper dal limite dell'area che porta Celeri a tu per tu con il portiere ma la conclusione finisce incredibilmente fuori. Tra il 22esimo e il 26esimo si rende protagonista anche Giacomo Gandolfo, capocannoniere del campionato. Prima una botta dal limite che finisce di pochissimo a lato, poi invece un autentico siluro di collo pieno che però sibila alla destra di Bartoletti. Al 32esimo proteste da parte del Real per questo tocco in area ma il signor giudice lascia proseguire. L'ultima occasione capita sul mancino di Celeri ma Bartoletti si supera e respinge un pallone destinato all'angolino basso. Il secondo tempo è molto intenso ma povero di occasioni da gol. Alla prima tuttavia passano i padroni di casa con questo inserimento di testa da parte di Michele Pane che sblocca così il big match. 1-0 per il Real, rivediamo il replay. Non accade più nulla fino al 73esimo quando Del Vecchio conclude troppo centrale su calcio di punizione dal limite. Al 91esimo invece conclusione sempre di Del Vecchio deviata pericolosamente ma la parabola è bassa e Pozzo blocca. È l'ultima occasione della sfida. Gioco partita e primo posto al Real Fieschi.